Ah, fammi mangiare questo buonissimo panino Ehi Mela, ti do di una cosa? Peppe ti ho detto che non mi devi rompere le palle mentre sto mangiando il panino Mela, adesso abbiamo una taglia di 5.000 dollari da riscuotere Tu lo sai che con 5.000 dollari ti puoi comprare tutti i panini che vuoi? Tutti i panini che voglio Sì, Mela, tutti i panini che vuoi Ok, Peppe, andiamo a riscuotere questa taglia, veloce Andiamo a prendere i cavalli Peppe, che fine hanno fatto i cavalli? A Mela mi sono dimenticato e dittolo Stamattina ho parcheggiato i cavalli in quarta fila se li sono sequestrati Peppe, tu ma spiegami, come hai fatto a farti sequestrare i cavalli? Ehi, c'era pure il Pony Velox E va bene, c'è questo cazzo, siamoci a facciamo appare Andane, mi chiede, vecchio, Peppe Ma dove, Peppe, ma dobbiamo camminare per un'ora? Meno male che almeno non è venuto a piovere Ma che faccio i maggi parlare? Diamoci, ma fa pure il bagno Peppe, tu non la stai niente Mela, guarda, pure se stavamo col cavallo Lo stesso ci bagnavamo E che miseria però Ok, Peppe, siamo arrivati Sì, Mela, è questa la casa Peppe, c'è una guardia davanti alla porta Ci vado a parlare io Ok, Mela Salve, buon uomo Siamo qui a parlare con una persona Avete il permesso di venire qua? Fatemelo vedere Sì, subito, ecco il permesso Stavo dicendo, ecco il permesso Cazzo Che mira di merda Sì, vabbè, lo trapasso Affanculo Peppe, via libera Peppe, aspettami fuori Me la vedo io È normale che aspetto fuori Non c'ho manco un'arma per sparare Oh, cazzo Eh Ma do Beccati questo Affanculo Non so sparare Ma do Che kill Ne stanno arrivando altri Oh, cazzo Abbassati Vaffanculo Pezzo di merda Ok Dimmi dove è il tuo Dimmi dove è il tuo capo Tiene una taglia di 5.000 dollari E io la voglio Mi devo andare a comprare i panini del McDonald's Sta al secondo piano Grazie, pezzo di merda Peppe, devo andare al secondo piano Eh, ma qua non c'è nessuno No Cacchio, sto scappando Affanculo Io me ne scappo Merda Non ti preoccupare Me la lo piglio io Fermo Non ti muoverò Tirenditi a coltello Dove sono i soldi? Eh, me devi uccidermi Se li vuoi I soldi Stavo scherzando I soldi sono al secondo piano Della mia casa Vaffanculo Mela I soldi sono al secondo piano Perfetto Peppe I soldi sono dentro a questa scatola Adesso portiamolo a casa nostra Ma che è a casa nostra? Lo sai dove dobbiamo andare? Lo so troppo bene Dove dobbiamo andare Peppe, vogliamo vedere chi si riesce a mangiare più panini? Ok Tanto lo sai che vingo io Ok Peppe Magna Lasciami un pezzo Aspè Ci potete portare una Coca-Cola? Sì, ora vi porto la Coca-Cola Eccola qui Ve la sto portando